Ciao di nuovo ragazzi siamo tornati, siamo in giro, come vedete sono le case tra di noi qua sempre a Barisan Edmunds, Suffolk, Inghilterra, che dire, queste sono le case che potete vedere, tutto in giro, vi faccio vedere come è avanti, cittadina carina, niente male, siamo qui, la musica che sentiamo in macchina, assolutamente british o comunque ci sta, non è albano, non è celentano o spazzate del genere, tutti che ci guardano male non fanno molto, noi siamo da amare, ci ne sbattiamo di queste cose, sarà perché magari sanno 5 gradi in questo momento e è maledetto a petto, ma no, non ce ne è appunto nulla, cazzo, continuiamo ad andare avanti che dire, ora iniziamo a fare anche un po' di storia e vi mostreremo anche la parte diciamo centrale della mia cittadina, la cittadina, la cittadina, questa è la cittadina dove ero io questo è il centro, qua la parte storica c'è un Maserati, qui non ci sono soltanto Land Rover del cazzo, ottimo, questa è la parte storica non so, non ne può affrontare un cazzo non lo so, a me piace e niente, qui si sfreccia fa tempo e si va si va girando, questa è la cattedrale se volete venire a pregare per qualcosa vi ho mostrato dove venire a pregare e niente, non so voi cosa farete stasera c'è una a bere 2-3 pinte peace and love peace and love, dice lui salutiamo le persone del posto grazie Carlo, un abbraccio anche a te ciao vaffanculo c'è Carlo no, non c'è Carlo e niente ragazzi, che dire ora vi salutiamo e ci vediamo tra un po' un abbraccio